Baris Arduk ha elogiato molto il suo compagno Faria Yeevi Chen. Baris Arduk, tornato sugli schermi con la serie TV Alparslan, ha ricevuto un grande apprezzamento dai suoi fan con la sua interpretazione efficace. Baris Arduk, che ha guardato la serie con tutti i suoi compagni di squadra all'edificio Tepebasi di TRT la sera dell'8 novembre, ha dichiarato in una dichiarazione ai giornalisti che era sia orgoglioso del lavoro che contento che non fossero imbarazzati. L'attore, che ha dato vita al personaggio di Saltan Alparslan, il potente sovrano del grande stato di Seljuk, ha dichiarato di aver fatto un ottimo lavoro. Sottolineando che hanno mantenuto a lungo i preparativi preliminari affinché la serie fosse una produzione di successo, Baris Arduk ha espresso il suo orgoglio con le seguenti parole. Stiamo cercando di raccontare un periodo molto importante. Stiamo cercando di raccontare degli eroi molto importanti. Sono molto felice che siamo stati fortunati. Ero molto emozionato. Abbiamo preso a lungo il processo di preparazione, per fare correttamente. Ero orgoglioso di quello che ho visto, mi è piaciuto. Sono contento che non ci siamo imbarazzati. Spero che anche il pubblico l'abbia apprezzato. La serie Alparslan ha vinto il primo posto nelle classifiche con il suo primo episodio. C'è stata una grande interazione sui social media e milioni di persone hanno seguito la serie. I commenti positivi sui social media dicevano che anche l'interesse per la serie era molto alto. Spiegando che è allegro ed eccitato, Baris Arduk ha anche elogiato il suo partner Fariai e Vi Chen. Baris Arduk ha detto della sua compagna. Fariai è un'ottima compagna di giochi. Penso che siamo stati molto compatibili sul set dal primo giorno che ci siamo incontrati. È una partner che fa tutto ciò che può. È stata un'ottima amica per me.